Ciao tesori, bentornati a una nuova puntata di Gli Errori di Barbara e Lara Paperissima LOL Ragazzi, oggi apriamo un pack surprise Come sempre E poi vi facciamo vedere un unboxing O qualcosa, parliamo di qualcosina, di una piccola recensione Certo E poi vediamo i vostri errori Eh sì, è un po' che non vi metto i nostri errori Ma ne fate, ne fate E se ne facciamo Oggi vi metto qualcosa di buffo Di un video di Mega Wow Cioè il dietro le quinte Gli Errori Ecco, giustamente E Alice? Eh? Alice ci sei anche tu? Ovvio Se magari ti alzassi Ma ciao Cosa si fa oggi? Paperissima Oh, era tanto che non si vedevano le vostre I vostri strafalcioni Eh sì, me l'ha detto già anche Lollina Bene, che altro? Hai detto che si devono iscrivere al canale? No, non l'ho detto Ragazzi, iscrivetevi al canale Perché qui si ride Perché ci sono delle Lolle molto buffe Alcune un po' svampite Ma non sono io Eh no, guarda Che hai detto? Niente E poi ci sono queste due Qui Barbara e Lara Che ne combinano di tutti i colori Ha detto tutto bene Uh Eh, si è disattivata Lollina, se si impegna a dire le cose bene Non è che poi dopo continua tanto Si saranno scaricate le batterie Oh no, io ho le batterie ricaricabili Ah, è anche ecologista la ragazza Sempre, ovvio Ci mancherebbe altro Ok, se avete finito io comincerei Esatto, si ci vuole la sigla Le veline dove sono? Non ci sono E quindi? La sigla è registrata Ah ecco Vedi che potenti mezzi che abbiamo Ragazzi, sigla di Paperissima E poi i nostri errori Eh Buona visione Oh ho Ciao Eppi Ciao amici di Mega Wow Di Mega Wow Ciao amici di Bega Wow Ciao Eppi amici di Mega Wow Eh, grazie Eppi per avermi spesso E ciao Eppi Ciao amici di Mega Wow Grazie per averci C'è la gomma in bocca Sputa sta gomma Dai ti prego Non finiamo più Che sonno Siente ridi Vai, per favore Poi taglio, vai Darà Lara, lo fai Ok La ciotola No, sei visto D'accordo Ah, cucchiaio Ne fate dei casini però Lollina è così eh Alice 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 Ok Quando vediamo le papere Le hanno appena messe E io dov'ero A guardare il pavimento E vabbè E quando le posso rivedere Quando vuoi I video si possono rivedere in ogni momento Allora ragazzi Per quanto riguarda Il momento recensione Abbiamo già aperto in un video I 3D cambia look Di Me Contro Te Ma vi volevo far vedere Una cosa bellissima Che ha fatto Alice Cioè questi erano i personaggini Poi avevano le loro scocche Ecco questi sono i personaggini vestiti Se andate a vedere il video Dedicato Li abbiamo aperti tutti Tutta la collezione Quindi assolutamente Correte a vederlo Come anche Dovete andare a vedere Come Li ha utilizzati Alice Eh sì Alice è stata fantastica Guardate un po' Che si è inventata Sta pazzarella E vi volevo far vedere Appunto Colgo l'occasione Per farvi vedere Che Vestono Perfettamente Le Lil Quindi se avete Le scocchettine Togliete il personaggino Potete cambiare look Non soltanto A lui e Sofì Ma anche Alle tipitine Guardate quanto sono uscite carine Non solo Un incanto E queste le avete viste Già nel video Di Halloween A casetta LOL Se non l'avete visto Correte a vederlo Perché fa troppo ridere E appunto Se ne avete Potete appunto Giocarci O con lui e Sofì O potete anche voi Metterci dentro Le Lil Sister Diventeranno Degli animaletti buffi Insomma fate con molta delicatezza Perché le guarnizioni Sono un po' delicate Ma se fate piano piano Ce la fate Senza alcun problema Eh Sono stata brava Alice Sei stata fantastica Bene Grazie mille Grazie mille Grazie Ho detto tutto Ok Bene Adesso dopo che abbiamo visto Appunto Le nostre papere Abbiamo salutato Abbiamo fatto vedere La nostra mini review Del giorno Io direi che possiamo Vederci Alcuni Uno o più Dei vostri pack surprise Eh sì I vostri pack surprise Sono meravigliosi Sono E invadono Questa casa Sì Sono piena Dei vostri pacchettini Ragazzi Non avete idea Di quanti ne ho Vi vorrei fare Una volta Vi faccio una foto La metto su Instagram Con tutta la montagna Di cose che ho E mi sto leggendo Tutti quanti Gli eventi Quindi non vi preoccupate In proposito I prossimi eventi Eh Alcune cose Non le posso ancora dire Ma ci vedremo Molto molto presto Tornerà anche Attente al lupo web E che cosa sarebbe Questa cosa È un progetto Fighissimo Che fa Barbara Insieme a Una sua amica Psicoterapeuta E a Un suo amico Che fa Esperto di sicurezza E a che cosa serve Serve a mettere in guardia I bambini Dai pericoli di internet Oh è bellissima Questa cosa Ma noi non siamo Pericolose Eh lo so Noi siamo un canale sicuro Ma c'è tanta roba In cui Dalla quale i bambini Devono stare alla larga Mi piace questa cosa Poi ne parlerai ancora Assolutamente sì Voi continuate a seguirci E poi ovviamente Ma non mancheranno Anche gli eventi Di baci Abbracci Vitte in gritte Eccetera Non vi preoccupate Ci vedremo presto E tante volte Ok Pack surprise 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 Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro E già si legge Un Lucrezia Da aprire in un video Ecco di qua Lucrezia Che bello Qui dietro c'è un Lara Grandissimo Ha rivestito pure la scatola Un prezzo È bellissimo E noto già Che qualcuno Sarà molto felice Di qualcosa Tipo Zira Sì sì Già sei qua eh Cosa c'ho? Cosa c'è nel pacchettino? C'è una cosina per te La vuoi vedere? Cosa c'è qui? Oh Guarda Ti piace? La vuoi? Te la tiro? Vado 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 Pronta E E E E Vai Sto già strofinando sui piedi Perché vuole che io gliela rilanci Ma che bello Selfie combo Ma disegni troppo bene Anche che bei pennorelli Guarda che colore ricco Zira Sta smontando A mezza casa Che stai facendo? Dov'è la pallina? L'hai rimessa nella scatola? Ma sei una tacchinella Ma come si fa? Scusatemi Ma zira non Ecco Dov'è? Eccola Vai Ok Ho ritirato la pallina Barbara Lara E io Poi qui c'è questo bellissimo cartellino Scritto Lara Grazie Stupendo C'è scritto qui Aspetta Non riesco a capire il nome Adesso ce la faremo Allora Dai su Forza Ah Dai su Forza caro Andiamo al centro Commerciale E panchino Giustamente No Al centro commerciale No Bonbon Lollina Disegni troppo colori Benissimo Non capisco questi colori Che cosa siano Se sono pastelli Sono bellissimi Allora Ciao Barbara e Lara Sono Lucrezia Ho 11 anni e mezzo Vi seguo da quando Avete scartato Lollina Ogni giorno Quando arrivo a casa Mi metto sul divano Guardo i vostri video E quando ne finisce Uno Corro subito a vederne Un altro Perché mi fate ridere Un sacco Grazie Mi fa piacere Questa cosa Ho 22 lol 8 lille 4 pezzi Mi potrebbero salutare Lollina E Alice Lollina Eccola qui E senti Ma Alice Dov'è? Ma che ne so Sta facendo la svampita Di là Non è che me la puoi chiamare Aspetta vado Alice Eh Alice vieni Eh Alice Eccomi sono qui Ma qui dove? Ma se ti girassi Ah sei qua E vedi come sei svampita Ciao Lucrezia Eh Oggi è sveglia Eh sì Oggi sì Vi voglio tantissimo bene Se siete le mie youtube preferite Mi piacciono voi Mi controteco Rimantina GBR E Lella Direi che abbiamo dei gusti Molto molto simili PS La la vuoi essere mia amica Assolutamente Sì E qui c'è un podio Wow Grazie Ci ha messo sul podio Con GBR Con Corina E qui mi controteco È un sogno Quando ci fate queste cose È troppo 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 bello Domande Come vi chiamate Barbara E Lara La vostra doll preferita Quanti anni avete Io 41 E Lara ne ha 10 Per Barbara Ah è uno scubidù Sì Ho indovinato Questo è uno Scoubidù Io so fare un sacco di trecce Ma questi mi scordo sempre Come si fanno Poi qua ci sono Sotto bicchieri di carta Guarda che inventiva Che avete E poi tantissime Tantissime altre rubine Carine Pisla Ok Grazie per non aver messo Lo scotch Perché vedete Come faccio in fretta Ad aprire i pacchettini Ci metto un secondo Invece di metterci Un mese Perché Oh No ma guardate questo Se ci seguite Da tanto tempo Dovreste capire È per Lillina Che è la Lille Quella piccolina Con i capelli bianchi La piccolina Di Snow Angel Che cade sempre Dalle scale E le ha dato una scala Ma conoscendo Lillina Si sfracellerà Anche da queste Poi vedo altri pacchettini Con altre sorpresine Un cuoricino Double face E Sentite Sera che beve Si sente? Si sentiva? Un altro pisla Con un delfino E qua La stella Gigante Sono dimagrita E infatti Guarda Dimagritissima Bellissima Veramente un pacchettino Bellissimo Tra l'altro Ci sono ancora Un sacco di sorprese Che ora mi scoprirò Con calma Perché mi voglio Tenere un po' di suspense Oh Questo è per l'aretta Guardate che bel braccialettino Grazie Cosa c'è qua? Un micetto Cos'è? Un pony Un cavalluccio Insomma è veramente Strapieno Ci sono un sacco Un sacco Un sacco Di cosine Questa puntata Era veramente ricca Avete visto Un sacco di cose divertenti Mi sono scompisciata Con i tuoi errori Eh sì In effetti Ma quelle erano Le papere di un video Di Mega Wow Che è già online Quindi ricordatevi Ma me lo ricordo Sì Che ogni lunedì C'è un nostro nuovo Contenuto su Mega Wow Quindi iscrivetevi Anche lì Ma io l'ho già fatto Fatelo anche voi ragazzi Mi raccomando Ci vediamo ai prossimi video E vi lascio I bollini del canale Qualcosa di carino Da vedere dopo Mi raccomando Iscrivetevi A presto Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti